Aspetta, aspetta, ciò si! Allora Se venite il mercoledì mattina Gara di Valle Se venite il martedì pomeriggio sera Gara di Valle Scalpette in montagna ospiti di donne chiave di casa Uuuuuuuu Aspetta Aspetta Faccia subita Faccia subita Faccia subita Fista dall'alto sul campo da gol Uuuuuuuu Caramba Nico, Nico si può? Uuuuuuuu Se venite il martedì sera vi porto Cos'è? Lo pubblico su Youtube Poi alle 8 e mezzo vado io